Il gruppo del Tribunale di Crotone Romina Rizzo ha emesso attraverso il rito abbreviato 11 condanne per le persone che si resono protagonisti nel gennaio dell'anno scorso di una sparatoria al quartiere Gesù di Crotone. Una sparatoria che destò preoccupazione, non forse altro per l'orario che combaciava con l'uscita da scuola di centinaia di studenti che si trovavano dunque sul posto. Il PM in verità aveva chiesto per alcuni imputati bene più basse rispetto invece alla sentenza emessa dal GUP. Tutti gli imputati dovevano rispondere di reati di tentato omicidio, possesso di armi, detenzione e spaccio di stupefacenti. La condanna vanno da un massimo di 15 anni ad un minimo di 4 anni e 2 mesi perché nello stesso procedimento poi per la sparatoria si inserì anche quello di traffico per droga nella quartiere del Gesù.